Grazie per la visione! Stiamo analizzando, come ben sapete, l'esortazione apostolica Moris Letizia di Papa Francesco su matrimonio e famiglia. Siamo giunti con quella odierna alla ottava puntata e in questa ottava puntata vorrei analizzare insieme a voi il quinto capitolo dell'esortazione di Papa Francesco. Questo quinto capitolo è intitolato dal sommo pontefice L'amore che diventa fecondo e quindi è un capitolo dedicato alla dimensione procreativa dell'amore, al dono dei figli in modo particolare. Dico il dono dei figli perché il Papa introduce questo capitolo affermando che i figli sono un prezioso dono di Dio da amare prima ancora che arrivino e da non rifiutare mai, non pensando mai che i figli siano un errore, uno sbaglio. Questa è una cosa che non deve mai essere affermata. Il figlio non è mai uno sbaglio, non è mai un errore. E perciò è importante, scrive Francesco, che il tempo della gravidanza sia vissuto, non solo dalla donna ma anche dal padre del bambino, come un periodo di collaborazione con Dio creatore. In maniera poi chiarissima, al numero 172, Francesco afferma, leggo testualmente, ogni bambino ha il diritto di ricevere l'amore di una madre e di un padre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa. Perché voglio sottolineare questa affermazione? Perché oggi si va diffondendo l'idea che un bambino non abbia necessariamente bisogno dell'amore di un padre e di una madre. Può avere due padri, può avere due madri, può averne solo uno dei due. Quindi, attenzione a non diffondere idee che non solo sono contrarie, come dire, alla dottrina della Chiesa, al magistero dei papi, ma che sono anche pedagogicamente molto discutibili, quantomeno, molto discutibili. Perché Papa Francesco, al numero 172, chiarisce che non si tratta solo dell'amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche dell'amore fra i due coniugi, che è percepito come fonte della propria esistenza, scrive Francesco, come nido che accoglie come fondamento della famiglia, perché diversamente il figlio potrebbe ridursi a una sorta di possesso capriccioso. Mio figlio. Non è mai mio figlio, è sempre nostro figlio. E questo non è sempre molto chiaro all'interno della coppia genitoriale, no? Specialmente, dico oggi, in cui sembra prevalere l'idea del possesso più che del dono. Da questo punto di vista, il Papa poi sottolinea nei paragrafi successivi la diversità e la complementarietà dell'amore materno e dell'amore paterno. L'amore materno certamente assume una grande importanza nei primi mesi di vita, ma anche in seguito, quando, scrive Francesco, le madri possono essere considerate come l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. È bellissima questa frase, no? L'amore delle madri è l'antidoto più forte contro l'egoismo dilagante, contro l'individualismo dilagante. Francesco scrive sempre in questo numero 174 che una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Sono espressioni molto belle. L'amore materno è per sua natura sollecitudine, prendersi cura, tenerezza, dedizione, fortezza. Alla faccia del sesso debole l'amore delle madri è sempre, si può dire, più forte di quello dei padri, è più tenace, è più resistente alle avversità. Basterebbe pensare anche solo al fatto che una mamma è capace di accudire il figlio malato anche per 50 anni. Un padre credo che non sia capace di farlo questo. Ovviamente è molto importante però anche l'amore paterno, perché se no, come dire, il Papa si rimangerebbe quello che ha detto prima. Scrive al numero 175 Francesco che un padre con una chiara e felice identità maschile è tanto necessario quanto le cure materne, soprattutto perché aiuta a percepire i limiti della realtà. i limiti della realtà e si caratterizza per l'orientamento, per l'uscita verso il mondo più ampio e ricco di sfide, per l'invito allo sforzo e alla lotta. Questo è l'amore paterno, un invito alla lotta, allo sforzo, alla tenacia, all'inserimento nel mondo più ampio, nelle relazioni sociali più ampie, all'orientamento di ciò che si deve fare della propria vita, a come vivere il proprio lavoro, la propria professione. Al numero 177 Francesco scrive una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Alcuni padri si sentono inutili, non necessari, ma la verità è che i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro fallimenti, perché i figli qualche volta, ahimè, sperimentano dei fallimenti ed è proprio lì che hanno bisogno di trovare un padre che li attenda e che li incoraggi a non sentirsi falliti, a ricominciare, a tornare a lottare, a riprendere il cammino. Il Papa poi parla dell'amore filiale, quindi ha parlato dell'amore materno, dell'amore paterno, certamente anche l'amore filiale, l'amore filiale che è importante non fosse altro che per il fatto che tutti noi siamo figli. Questo è molto facile, ma anche molto vero. Non è possibile dire che tutti noi siamo padri o siamo madri, non è così. Non è possibile dire che tutti noi siamo mariti o siamo mogli, alcuni non lo siamo. Però è giusto dire che tutti siamo figli, siamo tutti figli di qualcuno. Questo è indubitabilmente vero. Ora, l'amore filiale si esprime, scrive Francesco, in modo particolare nella obbedienza al comandamento quarto, onora il padre e la madre. Guardate, al numero 189, Papa Francesco scrive che una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore. Senza onore. È una società destinata a riempirsi di giovani aridi e avidi. Francesco non è uno che gliele manda a dire le cose, cioè le dice, onore il padre e la madre. Laddove non si onorano il padre e la madre, noi rischiamo di vivere in una società senza onore. Una società che va facendo crescere giovani aridi e avidi. E' chiaro perciò che occorre onorare il padre e la madre, però è altrettanto chiaro che bisogna a un certo momento anche lasciare il padre e la madre. I figli che si sposano debbono lasciare il padre e la madre. E' un guaio se non li lasciano. Quando non li lasciano rischiano di far fallire i matrimoni. C'è scritto anche nel libro della Genesi che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne. Lascerà il padre e la madre. Il Papa poi accenna al prezioso ruolo degli anziani. Parecchie volte anche nelle sue catechesi del mercoledì Francesco si è soffermato sul tema degli anziani. Quegli anziani, scrive qui in Amoris Laetitia, che aiutano a percepire la continuità delle generazioni. Quegli anziani che hanno il carisma di ricucire gli strappi. Quegli anziani che sono per esempio i nonni. E chi potrebbe mettere in discussione il ruolo importante che hanno i nonni? Specialmente oggi, per tanti motivi che sarebbe qui troppo lungo così stare ad elencare. Ma i nonni che assicurano, scrive Francesco, la trasmissione dei grandi valori ai loro nipoti. Le loro parole, le loro carezze, la loro sola presenza, aiutano i bambini a riconoscere che la storia non inizia con loro. Che sono eredi di un lungo cammino e che bisogna rispettare il retroterra che ci precede. Per questo motivo, scrive Francesco, la mancanza di memoria storica è un grave difetto della nostra società. Guardate che questo è un concetto formidabile. Oggi non c'è memoria storica e laddove non c'è memoria storica non c'è neanche futuro. Perché il futuro si può fondare soltanto sulla memoria storica. Sembra che oggi niente si irradichi, niente vada ponendo radici. Tutto sembra che sia passeggero, mutabile. E invece non è così. Non deve essere così. L'ultima modulazione dell'amore nell'ambito della famiglia, dopo quella materno-paterno-filiale e anche quella degli anziani e dei nonni, è l'amore tra fratelli. Questa è una dimensione che il Papa riserva per ultima nella sua trattazione, ma che certo non è ultima in assoluto. Certamente l'amore tra fratelli è, dice Papa Francesco, una grande scuola di libertà e di pace. Perché l'amore tra fratelli ci aiuta a capire che la famiglia deve porsi nei contesti della società intera come una scuola di fraternità, se possiamo usare questa espressione. In precedenza il Papa aveva scritto che la dimensione sociale della famiglia ci fa capire che Dio ha affidato alla famiglia il compito di rendere domestico il mondo affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello. L'amore tra i fratelli di sangue, cioè in altri termini deve aiutarci a capire che ogni uomo è nostro fratello e che noi siamo portatori di questa fraternità universale e che noi dobbiamo dedicarci a rendere questo nostro mondo una grande famiglia. Una grande famiglia di fratelli che si sentono tutti sulla stessa barca, per così dire. Una famiglia allargata, una famiglia allargata che poi su questa base, scrive Francesco, sappia accogliere anche le ragazze madri, i bambini rimasti senza genitori, i disabili e tutti quelli che vivono una qualsivoglia forma di disagio sociale. Senz'altro qui veramente la Amoris Laetitia tocca un punto di notevole importanza. Noi ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, certamente avremo modo nelle successive puntate poi di analizzare altre parti ricche, importanti di questo documento pontificio che stiamo commentando insieme. Un caro saluto a tutti voi.